Buongiorno, bentrovati, iniziamo insieme la giornata come di consueto dal lunedì al sabato con occhio ai giornali, guardiamo insieme le notizie principali su Resto del Carlino, Corriere Adriatico naturalmente anche se non siete davanti al vostro televisore oppure in casa potete seguirci nelle nostre dirette Facebook e quindi un'opportunità in più che avete, quindi salutiamo anche tutti coloro che ci seguono non solo da casa ma anche da fuori casa e anche dall'estero, ci sono molte persone che ci seguono dall'estero magari per motivi di lavoro o altro Bene, allora noi guardiamo sempre però il calendario, facciamo un sorvolo sull'almanacco del giorno e allora iniziamo subito con l'infografica, martedì 3 dicembre San Francesco Saverio il sole è sorto alle 7.23 e tramonterà alle 16.32 quindi ancora buio fuori dalle finestre ma ancora per pochi minuti intanto le previsioni del tempo per oggi, martedì, sono queste il cielo è inizialmente nuvoloso con parziale diminuzione della copertura nel corso della giornata e cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare quindi insomma anche il mare è abbastanza agitato in queste ore, precipitazioni e rovesci e temporali sparsi ci saranno nelle prime ore della giornata però andranno in esaurimento nel corso della mattinata le temperature sono in diminuzione per domani, mercoledì e il cielo continua a essere irregolare e soprattutto nella prima parte della giornata quindi nuvolosità intensa però non sono date precipitazioni nella regione Marche per domani e anche in questo caso le temperature scenderanno soprattutto nei valori minimi e abbiamo visto anche i proprio ieri c'è stata una inversione di tendenza drastica sulle temperature si è incominciato a far sentire come si dice il generale inverno giovedì rimane all'insegna della variabilità tendente al nuvoloso però perché ci sarà un aumento delle coperture nuvolose dal pomeriggio in poi e ricompariranno anche almeno sulla carta le precipitazioni anche se sono date come deboli e brevi e soprattutto nella seconda parte del pomeriggio le temperature avranno qualche incremento, qualche millimetro nella scala di mercurio qualche caso andranno a aumentare non in tutta la regione ma in alcuni casi ci sarà un aumento delle temperature bene, guardiamo le pagine dei giornali vi porto come sempre nelle pagine anche che riguardano altre zone della nostra regione partiamo da Ancona con il resto del Carlino forte notizie per una singolare iniziativa di questo imprenditore con il fiuto un po' per il marketing che a Portonovo ha deciso due anni fa di inscatolare l'aria di Portonovo e adesso la propone anche come gadget natalizio è andata a ruba possiamo dire questa iniziativa tra il serio e il faceto tra i turisti ma adesso pare che prenda piede anche tra i locali vendesi aria di Portonovo come regalo di Natale va bene e l'apertura invece per la cronaca per la statale 76 che è una pericolosa vergogna adesso sorge anche un comitato in attesa del raddoppio delle corsie il comitato dice basta ora la occupiamo perché è veramente un disastro nella pagina di Macerata però la fotonotizia è per dei commercianti di Viale Marti della Libertà che sono assediati qui ne vedete uno nelle pagine interne poi ci sono anche i loro commenti che si considerano degli assediati assediati dai cantieri cantieri infiniti che non vedono ancora la fine e quindi in prospettiva per il Natale sono fortemente preoccupati perché dice così ci uccidete tutto quello che è il nostro incasso per il Natale questo è un titolare di una tabaccheria insomma quindi sono diversi e sono molto preoccupati per questi risvolti negativi dovuti a questi cantieri che non vedono la fine e poi c'è la cronaca nigeriani arrestati per riciclaggio finiscono otto in manette tra Marche e Abruzzo portavano in Africa i soldi ricavati dallo sfruttamento della prostituzione nella pagina di Pesaro del resto del Carlino però la fotonotizia è tutta per il disastro VL crisi nera però insomma dicono non può finire così qui Amadori dice ci rafforzeremo ma l'ex NBA Pondexter dice no l'apertura invece è per la cronaca l'omicidio Ismaele Lulli Ambera chiesta l'archiviazione la ragazza è stata indagata ora la parola al GIP la madre di Ismaele Ismaele dice io non mollo e poi sempre per lo sport di spalle il Fano che viaggia in brutte acque l'arma Juventus Fano esonera Fontana al suo posto c'è il quarto ritorno di Alessandrini e allora entriamo nelle pagine anche del Corriere Adriatico anche qui fotonotizia per disastro VL e insomma in molti si chiedono come sia stato possibile finire in queste condizioni magnifico e Zampolini vecchie glorie dello Scudetto dice ripartire dalla 2 non sarebbe poi un dramma anzi forse tutto sommato servirebbe come lezione pronti da mettere in sicurezza sono 16 gli interventi previsti in due anni siamo a Pesaro piano da un milione e mezzo di euro da parte della provincia ma i fondi però sono scarsi entriamo nelle pagine appunto interne dove si parla in maniera approfondita degli argomenti e partiamo proprio da questo dei ponti 16 sono sotto la lente di ingrandimento ma le risorse sono scarse il presidente della provincia Paolini protesta per i prelievi forzosi dello Stato sul gettito delle tasse sono iniqui dice con questo ci tolgono forza e quindi non riusciamo a far fronte ai nostri obblighi anche se sono stati ridotti un po' al lumicino ma sono sicuramente le strade le scuole insomma tutto questo è parte dei compiti delle province che però sono svuotati dei fondi per essere attivi in questi settori e qui nell'infografica vedete dal 2019 al 2020 quali sono gli interventi della provincia di Pesaro e Urbino Sport VL appunto come mai siamo finiti così in basso come titolava un noto film sono tante le domande e vediamo se nell'articolo c'è una risposta sicuramente i tifosi ne avranno di ricette ma anche i dirigenti Pesaro modello Lione la città della street art vedete insomma questo è un esempio qui c'è un altro disegno insomma l'idea del vice sindaco Vimini per contrastare il degrado dei palazzi soprattutto in centro storico progetto da portare avanti però con bandi specifici le sere cinesche appunto imbrattate come tele su cui creare arte il comune nell'idea coinvolgerà gli studenti del liceo artistico Mengaroni anziché questi simboli incomprensibili se non solo a coloro che li hanno fatti verranno sostituiti da qualche forma d'arte grafica alla Berloni parliamo di lavoro parliamo di cose che sicuramente tolgono il sonno a questi 85 dipendenti sui quali è piovuta questa doccia gelata della messa in liquidazione dell'azienda nella quale loro lavoravano è un'azienda che stava anche viaggiando verso una ripresa è sciopero a oltranza ma solo il silenzio avvolge gli appelli nessun segnale da Taiwan dalla proprietà e quindi domina l'incertezza per il futuro per queste 85 famiglie RSA di Villa Fastigi ne riparliamo ne riparla il resto del Carlino dopo l'articolo sull'unaugurazione fantasma diciamo così poi il nulla fatta a maggio e quindi con l'accusa di essere un'inaugurazione spot elettorale l'attesa non è infinita parla Biancani la RSA non è ancora attiva ma Biancani dice non è colpa della regione e si difende dall'accusa del taglio di nastro elettorale ancora nelle pagine del resto del Carlino si parla dell'omicidio di Ismaele la procura scagiona Ambera è chiesta l'archiviazione non c'è la prova che lei avesse previsto l'omicidio ma la madre della vittima dice non per me non finisce qui e sicuramente vedremo ancora diversi risvolti di questa vicenda disastro VL anche qui scempio inaccettabile per i tifosi che ora dopo aver sostenuto in tutti i modi la squadra dopo il decimo K.O. di fila dicono appunto per voce di piccoli storico capo ultras dice finora li ho sempre difesi ma penso che domenica non verrò a vederli quindi grande sconforto Vallefoglia anche il Corriere Adriatico tratta dell'omicidio di luglio e della risvolta che ha preso l'indagine su Ambera che esce di scena la procura ha chiesto l'archiviazione era accusata di aver attirato il 17enne nella trappola mortale e nelle pagine del Corriere anche tutta la cronosequenza degli eventi di gestore entriamo nelle pagine di Fano si deve realizzare a Fano Salomonico il commento di Alberto Bacchiocchi il segretario del PD che da l'altolà a noi città e al sindaco dice sono anni che ce ne occupiamo la politica prenda le sue responsabilità è una risorsa che porterà ricchezza e quindi questo è il suo pensiero ma c'è anche un risvolto formativo per i nostri studenti con l'iniziativa Cuovadis offerta degli istituti superiori per orientare ragazzi e famiglie verso una scelta sempre più consapevole del percorso formativo dei ragazzi c'è sport anche nelle pagine di Fano eccellenze premiate dal CONI tutti gli atleti sono 19 con riconoscimenti li vedete qui in belle foto sono orgogliosi di essere così rappresentativi della città di Fano e quindi insomma congratulazioni a tutti loro nel resto del Carlino si parla delle nuove prospettive in ambito di edilizia territoriale via le auto spazio i pedoni il centro cambia è partito un progetto che vedrà la luce nelle 2020 tra le priorità c'è piazza Andrea Costa via Garamci e Borgo Cavur ma l'assessore Tonelli dice di conseguenza rafforzeremo anche i parcheggi e qui ci sono dei reading grafici che mostrano come potrebbero essere appunto queste zone soprattutto questo è il reading che riguarda via Cavur e piazza Andrea Costa come potrebbe essere la piazza qui c'è il mercato del pesce e questo è tutto quello che dovrebbe avvenire attorno allo storico palazzo e questa è via Cavur che vedete è praticamente ciclo pedonabile le scelte però dice l'assessore Tonelli saranno condivise con ovviamente commercianti e residenti della zona si parla di aeroporto volere volare invece no l'aeroporto nel gioco di parole resta a terra l'amministratore Ruggeri dice occorre sbloccare la questione delle aree demaniali poi potremmo partecipare al bando e magari investire nella pista in cemento ancora nelle pagine rimaniamo del resto del Carlino Viale Battisti è un piccolo un piccolo angolo torna l'edicola col giornale c'è anche il gelato il chiosco sarà gestito dal poliedrico Giorgio Ricci del Ciles e altri imprenditori sono pronti a seguire il suo esempio Ciles da tempo vorrebbe creare in questa piazzetta un piccolo salotto buono della zona del mare con locali intrattenimenti si sta impegnando da tempo in questa operazione e quindi vedremo se questo piccolo angolo di Fano diventerà una bomboniera e poi la manifestazione di cuocchi amatoriali ormai annuale che si tiene a Fano ha visto la vittoria di una cuoca non professionista di Lucrezia che vince la sfida ai Fornelli Vale Metauro si schianta contro un carrello Anas la superstrada chiusa con gravi disagi è l'incidente stradale di cui vi abbiamo parlato anche noi nel telegiornale ieri in apertura blocco della circolazione ieri appunto tra Serungarina e Fossombrone il ferito è stato trasportato a Fano per accertamenti ma fortunatamente è uscito con le sue gambe dalla macchina che a guardare le foto che ci sono anche su reporter di strada veramente è un miracolato perché l'auto è praticamente distrutta si è aperta come una scatola di sardine Valcesano timori per il progetto Fileni voteremo no in conferenza il sindaco di Mondavio nutre riserve su odori approvvigionamento idrico e turismo della zona quindi esprime tutto il suo scetticismo verso questo nuovo sito produttivo dell'azienda Fileni che dovrebbe essere effettuato nel territorio Peter Offreiter se ne va è tornato a Vienna e ci traccia un bilancio anche di quello che è stato tutto il suo apporto e dice metà del mio cuore rimane qui con voi la galleria nazionale non è stata mai così in salute sarebbe bello poter restare altri sarebbe stato bello restare altri due anni per portare a termine la la sua opera nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico invece si parla di politica e dell'inspiegabile fuga del consigliere Cangini questa fuga dalla maggioranza non se la spiega neanche il sindaco Gambini ci siamo parlati e non ha saputo darmi spiegazioni insomma che abbiano avuto un senso convincente per il sindaco della sua scelta di lasciare la maggioranza a favore di Londei ma a Ferminiano c'è anche qui strade pericolose tre feriti una tra cui una bambina e una pensionata una carambola a un incrocio tra due auto ieri mattina siamo in via Montefeltro la Panda con una 69enne finisce contro una cancellata e quindi due persone sono rimaste ferite andiamo a Senigallia la piazza più bella del mondo anche qui iniziative legate al Natale con questo manto di luci il sindaco è l'ideatore dell'effetto luminoso del Natale che potrebbe restare anche tutto l'anno talmente bello che è nato anche un hashtag sarebbero quelle cose che si fanno per richiamare i collegamenti sui social e vedete qui l'effetto è sicuramente molto scenico molto bello questo è l'effetto che si può notare andando in piazza Garibaldi Mangialardi l'eclettico sindaco senegalese è l'ideatore di questo effetto bene invece nelle pagine del Corriere Adriatico parla di un altro aspetto del Natale forse meno empatico ed emozionale la sosta selvaggia che imperversa e si accende ma sempre il sindaco Mangialardi dice è una questione oltre che di spazi anche culturale quindi manca una mentalità giusta auto nella ZTL davanti alle case c'è chi parcheggia nell'isola pedonale per andare a prendere il caffè insomma questa è la sua considerazione e allora ve la faccio vedere quella notizia così insomma tra un po' il serio e il faceto come dice lo stesso lo stesso ideatore di questa vendita di aria di Portonovo in questi barattoli che stanno andando a ruba è un'iniziativa partita due anni fa a favore dei turisti perché diceva qui non c'era niente da portarsi a casa nessun souvenir e mi sono inventato questa cosa ma adesso al non poco non poco costa di 3 euro sono vendute queste lattine con l'area di Portonovo sono anche lattine riciclabili insomma quindi un'idea sicuramente geniale sorpresa in vendita anche l'area di Portonovo da mettere sotto l'albero di Natale bene e con questa notizia chiudiamo vi faccio rivedere le principali pagine dei quotidiani apertura per Ancona appunto sulla vendita dell'area di Portonovo ma c'è la statale 76 che è una pericolosa vergogna dicono i cittadini ora ci riuniremo in un comitato mentre a Macerata i commercianti di una zona di Viale Martiri della Libertà si sentono assediati dai cantieri e vedono in pericolo gli incassi legati al Natale dice qui se i cantieri sono così non ci viene nessuno e poi c'è la cronaca cronaca con dei nigeriani otto che finiscono in manette per riciclaggio e sfruttamento della prostituzione invece nella pagina di Pesaro del resto del Carlino si parla del disastro della VL che viaggia veramente in pessime acque e dicono i tifosi non può finire così ma c'è la cronaca con l'omicidio di Ismaele Lulli e l'indagine a carico di Ambera che però la procura chiede è stata chiesta l'archiviazione e ora la parola passa al GIP ma la madre di Ismaele dice non finisce qui ponti da mettere in sicurezza questa è l'apertura del Corriere Adriatico di Pesaro sono 16 quelli che dovranno ricevere interventi nei prossimi due anni però anche qui la fotonotizia è per la crisi nera della VL che dice come mai sei finita così se lo chiedono tifosi e pesaresi che sono amanti del basket e che non hanno mai visto così in basso la loro squadra bene grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima parte della mattina per aver aperto lo spazio dell'informazione qui su Fano TV questa sera naturalmente vi rimando al nostro telegiornale occhio alla notizia ma il numero lo potete utilizzare sempre durante tutta la giornata per farci le vostre segnalazioni o per entrare in contatto con la nostra redazione grazie buona mattinata a tutti voi arrivederci a questa sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!